Gli accordi che useremo in questo regge sono A maggiore, quindi indice, quarta corda, secondo tasto, medio, terza corda, secondo tasto, anulare, seconda corda, secondo tasto, e il resto a vuoto. Mi maggiore, quindi secondo tasto, quinta corda con il medio. L'anulare va sul secondo tasto sulla quarta corda, l'indice va sulla terza corda al primo tasto e il resto a vuoto. Questi sono accordi, potete farlo su qualsiasi tipo di accordi con quel ritmo che abbiamo visto prima. Questi sono accordi che hanno già un'assonanza un pochino giamaicana, un pochino regge, per cui si prestano, diciamo, a eseguire un buon ritmo regge, però potete farlo anche su altri accordi. Fa diesis minore, questo è un pochino il più complesso. Allora, l'indice in barrette su tutte le corde del secondo tasto, ben premute. Poi l'anulare, quarto tasto, quinta corda, il mignolo, quarto tasto, quarta corda. E poi abbiamo il re maggiore, solito re maggiore, quindi indice, secondo tasto, terza corda, anulare, terzo tasto, secondo corda, medio, prima corda, secondo tasto. Qui vanno suonate le prime quattro o le prime cinque, quindi dalla quinta, questa qui, dalla quinta, vediamo se la faccio vedere, dalla quinta fino alla prima, o la quarta fino alla prima. Però, ed è così. Tutto il pezzo fa. Questa è la successione accordale. Ricordatevi, per un suggerimento su questa successione accordale. Ricordatevi che quando diamo la pausa sul primo movimento, sul movimento uno, come abbiamo visto prima nel ritmo, facciamo io, ruba, io, io. Quando mettiamo la pausa sul primo movimento di nuovo, ne approfittiamo per cambiare l'accordo e andare in mi. Noi abbiamo fatto l'ultimo io sul quarto movimento, poi mettiamo la pausa e mentre mettiamo la pausa cambiamo l'accordo. Sentite il rumore della pausa? Anche un pochino dopo, prima facciamo il rumore. L'importante è usufruire, usare quella parte di tempo, quell'asso di tempo dove non c'è il suono per cambiare l'accordo, perché così il suono diventa comunque più pulito, perché quando poi dovete dare la pennata sul secondo movimento, Roma, tatta, Roma, su, giù, avete già la mano sinistra o destra, se siete sinistri, in posizione. Grazie.